buongiorno oggi parliamo di tac infatti ci scrive un paziente dice devo fare un impianto il dentista mi ha detto che devo fare una tac ma io ho paura delle radiazioni sarebbe davvero ci sono alternative la tac è uno strumento diagnostico di eccezionale valore e il suo modernizzarsi ha permesso oggi di ottenere dei risultati incredibili con una quantità di radiazioni estremamente basse per fare un esempio fare una tac dentale oggi è come viaggiare per un paio d'ore nero dove si assorbono un po di raggi cosmici e più o meno la dose si equivale d'altro canto la tac serve appunto per fare diagnosi di malattie mentre nell'ambito dell'odontoiatria fare la diagnosi non richiede uno strumento così sofisticato a volte la maggior parte basta una radiografia per capire di che cosa stiamo parlando e quale siano le misure in cui dobbiamo stare per poter mettere in sicurezza degli impianti ci sono delle situazioni limite in cui è necessaria una tac ma sono poche perché siamo molto vicini a strutture vitali come il nervo alveolare nella mandibola o il seno mascellare superiormente che non vanno superate soltanto in questi casi la tac è indispensabile se lei lo ritiene può scriverci al nostro sito magari mandandoci una radiografia panoramica così noi potremmo dirle se nel suo caso un attacco assolutamente indispensabile grazie arrivederci